E' Arezzo l'unica tappa toscana del camper antiviolenza voluto dalla Polizia di Stato per Arezzo in collaborazione con le varie associazioni tra cui il Pronto Donna e Casa Tevenin che si occupano di violenza, in questo caso contro le donne. Questa è un'iniziativa molto interessante, noi la accogliamo con favore perché sicuramente parlare di questo argomento anche in un ambiente pubblico ci darà visibilità, farà sì che l'attenzione rimanga alta sul problema e poi fornirà alle persone quelle informazioni di base per poi eventualmente potersi rivolgere nelle sedi competenti. Quindi speriamo di iniziare questo percorso con la Polizia di Stato perché abbiamo un rapporto continuo con le istituzioni e quindi per noi è sicuramente un conforto sapere di poter lavorare in sinergia con persone sensibili che comunque hanno un occhio attento alla tematica. Il progetto che ha come slogan Questo non è amore cerca di avvicinare attraverso la presenza del camper in luoghi pubblici tutte le persone, in questo caso le donne, che possono avere problemi di violenza. Il camper con all'interno un'equip costituita da un medico, operatori specializzati della Polizia di Stato, sarà come postazione mobile nei pressi del mercato settimanale di Arezzo e in piazza San Jacopo sabato 2 luglio. L'iniziativa sarà poi replicata nella stessa fascia oraria sempre ad Arezzo il 6 agosto e il 3 settembre. Mentre nelle giornate del 16 luglio, 20 agosto e 17 settembre il progetto approderà in questo caso a Montevarchi, Sansepolcro e Cortona. Sì, questa è di nuovo l'occasione per poter lavorare tutti insieme, ognuno con le proprie competenze, con le proprie sensibilità e portarsi in mezzo alle persone, le persone che si sentono spesso solo e hanno difficoltà, come sappiamo, a esprimere i propri disagi e le violenze subite. Quindi una rinnovata occasione per poter tutti insieme tentare di dare un cambiamento, una risposta nuova a un fenomeno che è così dilagante e sempre più presente nel nostro territorio. Grazie a tutti.